E' l'alba e loro sono già in fracchi. Meriterebbero una guida interna ma devono rassegnarsi al camioncino. E' il solo modo per raggiungere la piscina dello zoo di Vancouver nel Canada che ospita questa eccezionale famiglia di pinguini reali. I pinguini sono animali ipocriti, hanno l'aria di uccelli e viceversa appartengono alla specie dei mammiferi. Di questa ipocrisia danno prova anche adesso facendo i timidi sull'orlo della piscina. Vengono mantenuti in celle frigorifere attrezzate come alberghi di lusso. Alle loro avluzioni si provvede così. Il più schizziloso fa qualche obiezione. Su coraggio caro, buttati!